Musica Nell'attesa di riavviare la stagione balneare, la spiaggia di Sottomarina per il settimo anno consecutivo si aggiudica la bandiera blu anche nel 2020. Assieme al litorale clodiense, la FEE ha riconosciuto la validità delle altre sette spiagge venete di Rosolina, Lido di Venezia, Cavallino, Iesolo, Eraclea, Caorle e Bibione. Non solo la qualità dell'acqua marina, ma anche la depurazione dei reflui, la gestione dei rifiuti, i servizi in spiaggia e l'educazione ambientale rientrano tra i parametri decisivi. La consegna verrà ufficialmente a Roma, in via telematica, il prossimo 14 maggio, quindi giovedì, nella sede della Foundation for Environmental Education. Si chiama B-Pass, vola sulle ali di una fenice ed è il sistema sicuro che può rilanciare il turismo Sottomarina e Isola Verde, nella difficile stagione che va a iniziare. Non è un'applicazione propriamente detta, ma è sì un servizio web mobile che consente ai clienti di non essere tracciati. L'hanno inventata due sviluppatori chioggiotti, Andrea Veronese e Carlo Nordio, assieme al padovano Enrico Giuriolio, e ha già ottenuto pareri lusinghieri dai consorzi di promozione turistica della città. Il progetto è sorto due anni fa, dicono Veronese e Nordio a Chioggia Azzurra, quando c'era l'obiettivo di creare qualcosa di nuovo nell'ambito del controllo accessi handless tramite ticket elettronico. Anche imprese straniere si sono mostrate interessate al business plan, incaricandoci di sviluppare il prototipo. Poi è arrivato il Covid e abbiamo pensato di anticipare i tempi, dal momento che il virus ha innescato un meccanismo negativo nei confronti del turismo. Perciò, in tempo reale, il progetto che avevamo in mente sta diventando il booking nelle spiagge locali, agevolando l'attraversamento di un passaggio senza utilizzare tessere. Una piattaforma web e non un'applicazione, dunque. È un sinonimo di libertà, spiega Carlo Nordio, con riferimento anche alla fenice della rinascita, oltre che di semplicità di azione. La base del lavoro era già in essere dal momento che il collega Giulio lo forniva già per notazione nelle alberghi. Tramite B-Pass, l'utente può registrarsi direttamente nella spiaggia preferita, lasciando perdere idee quali braccialetto e plexiglass per dividere gli ombrelloni. Il biglietto elettronico evita assembramenti, file di attesa e contatti con i lavoratori dello stabilimento. Tutto sarà monitorato via web. L'obiettivo, supportato anche dai buoni riscontri ottenuti dagli interlocutori primi del progetto, è dare visibilità al turismo di sottomarina e isola verde nei confronti dei clienti italiani e stranieri, raggruppando gli stabilimenti in un'unica piattaforma. L'ambizione, sottolinea Andrea Veronese, è allargarla ai servizi di alberghi, appartamenti e ristoranti. Il piano iniziale prevedeva quattro anni di sviluppo. Starà ora agli operatori del settore decidere se seguirlo oppure no. Ma sarebbe bello far ricredere i detrattori di questa spiaggia, facendoli evolvere con tutti i servizi d'avanguardia e dare un'immagine migliore di chi oggi è sottomarina. Per strada senza alloggio, con sei figli. È la situazione in cui si è venuta a trovare una coppia nella giornata di ieri a Sottomarina. I titolari del discorso Hotel Capoesti in Via Colombo, infatti, stanchi di aspettare da due mesi 700 euro pattuiti per la locazione di una stanza, hanno approfittato dell'assenza del nucleo per una breve passeggiata e hanno cambiato il codice di eccesso alla camera con tutti gli effetti personali rimasti all'interno. Padre e madre si sono così rivolti alle forze dell'ordine. Sia i carabinieri che la polizia di Stato sono intervenuti dal tardo pomeriggio fino a sera, quando hanno ottenuto, dopo ben tre ore, la riammissione delle persone all'interno dell'alloggio. Dopo una sentenza dell'autorità giudiziaria, la situazione è nota anche ai servizi sociali del Comune, che tramite i buoni aiutano a provvedere all'attuale sistemazione, mentre si sono dichiarati disponibili a sostenere le spese per la futura locazione di un appartamento che si libererà a giugno. Non abbiamo nessuno che ci possa ospitare nel mentre, racconta la madre, e lo scorso mese ho denunciato i gestori del Capoest perché hanno minacciato e aggredito me e mia figlia di 12 anni. Ancora un caso di cronaca, quindi, che vede al centro dell'attenzione l'ex albergo di Giuliano, Riccardo e Francesca Bosco Lomeneguolo. Nel tardo pomeriggio di ieri, dopo le ore 18, la motovedetta dei carabinieri ha fermato in località Val d'Ario, nei pressi della stazione ferroviaria di Chioggia, un pescatore di vongole veraci che stava scaricando un quintale di bivalvi, privi di documentazione che attestasse la filiera di provenienza. L'uomo è stato sanzionato per 2.000 euro e le vongole sono state rigettate in laguna, essendo ancora lo stato vitale. Sarebbe la seconda volta che lo stesso pescatore, in compagnia di altri, viene pizzicato dai carabinieri per analoghi motivi. Sono trascorsi tre mesi dall'imponente manifestazione portuale di Venezia del 13 febbraio scorso, con la firma del manifesto che chiedeva risposte certe per quanto riguarda il flusso delle navi in arrivo, le commesse, la capienza e i pescaggi, a partire dall'imminente protocollo fanghi. Ma ancora nessuno di questi passaggi è stato compiuto. Se ne rammarica Alessandro Santi, presidente di Asso Agenti Veneto e vicepresidente di Federagenti Nazionale, durante una videoconferenza con il Network Azzurra. Eppure, già al pomeriggio stesso, ricorda Santi, arrivò l'annuncio roboante da Roma. Abbiamo risolto, c'è la soluzione, parte la nuova vita del porto. Ma dieci giorni fa si è scoperto che il protocollo fanghi, dal quale la svolta avrebbe dovuto prendere le mosse, giace nei cassetti in quanto mancano i documenti relativi alla bonifica bellica. Ennesima prova che la burocrazia italiana sa essere estremamente pericolosa. Il presidente Santi ha deciso così, assieme agli altri operatori degli scali di Venezia e di Chioggia, di scrivere una nota di protesta ai ministeri competenti, al presidente del Consiglio dei Ministri. Chiediamo in primis l'escavo manutentivo dei canali fino a 8 metri, ripristinando le quote precedenti e non intervenendo su nuovi canali. Si tratta soprattutto del canale di petrolio e di quello che dalla bocca di porto di Chioggia conduce a Val d'Ario. Se oggi si scaricano 6.000 tonnellate per ogni nave, se ne scaricherebbero 8-10.000. Dopo un periodo di responsabilità sociale, quindi l'ambiente portuale fa la voce grossa. Bisogna parlare di futuro, prosegue Santi. Per questo chiediamo un incontro al governo. E sia chiaro, non vogliamo soldi, perché gli escavi di Chioggia e Marghera sono già finanziati dal lavoro nel settore. L'ammontare di circa 23 milioni è pronto per essere speso. La caratterizzazione dei fanghi è già stata fatta. Solo la burocrazia ci frena. Eppure il porto continua a lavorare. Anche Marzi in effetti ha tenuto, soprattutto la logistica, spiega il presidente degli agenti spedizionieri. Con il traffico di materie prime per la produzione, l'energia, le granaglie e anche i camici, i respiratori, le mascherine dall'estero. Aprile però è stato disastroso, complice anche l'effetto del blocco cinese, con due mesi di anticipo rispetto all'Europa, oltre al fermo delle aziende italiane e delle loro esportazioni. L'epidemia da Covid-19 è una circostanza che dimostra come, conclude Alessandro Santi, l'economia del territorio non possa essere vincolata solo alla monocultura turistica, che è volatile e troppo facilmente attaccabile, come si è visto. Bisogna invece rivolgere l'occhio ad altre attività, dai cantieri al porto. Produciamo pil e quindi anche entrate per lo stato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.